Grazie Presidente. Noi sappiamo che nelle società e nei Paesi dove le diseguaglianze sono più pesanti sono proprio le donne a pagare il prezzo più alto, in termini di mancanza di partecipazione e quindi mancanza di ruoli dirigenziali nella politica e nell'economia, in termini di mancanza di parità salariale, di parità nelle retribuzioni e poi in termini di violenza drammatica contro le donne con dati sui femminicidi che sono assolutamente allarmanti e sappiamo che la risposta è l'istruzione, come stiamo qui dicendo, per la parità di genere, per l'emancipazione, per l'inclusione, per la costruzione di comunità. Questi termini si tengono e si potenziano insieme come un grande moltiplicatore e portano alla competitività di un Paese, di un'area geografica, portano anche al rilancio del multilateralismo, ad una globalizzazione fondata sulla cooperazione. Noi sappiamo che questo tema, Presidente, è legato non solo all'istruzione ma anche ad un grande tema culturale, di mentalità, perché riemergono nei tempi della crisi sociale pregiudizi e stereotipi che sembravano superati, anche in virtù di linguaggi televisivi che li alimentano, in virtù anche di linguaggi nei social network che li alimentano. Molti parlano di un vero e proprio cortocircuito affettivo che riguarda anche le nuove generazioni, come non penseremmo. E allora è molto importante come si leghi all'istruzione un tema specifico, quello dell'educazione sentimentale, l'educazione alla affettività, l'educazione alla differenza di genere. C'è su questo un settore specifico della Convenzione di Istanbul, del Consiglio d'Europa. C'è un'insegnante italiana che è impegnato su questo fronte che dice il diritto a non essere uccise si impara a scuola. L'autodeterminazione è fondamentale per una società libera e democratica. Il rispetto della scelta di una donna o di un uomo di sciogliere un vincolo sentimentale o familiare fa una società libera e democratica ed è fondamentale per il nostro lavoro parlamentare, politico e culturale. Grazie.